Cari Acquario, martedì, mercoledì, sabato pomeriggio e domenica ci sarà la luna migliore nel cielo per voi. Quindi questi sono giorni in cui potrete fare sfoggio delle vostre capacità, potreste avviare, varare un progetto, un'iniziativa che vi sta particolarmente a cuore, risistemare eventuali attriti che questo Marte rompi Zebedei nel vostro segno magari ha creato di recente. Quindi le acque possono calmarsi, per quanto questa venere così storta non vi renda certo campioni di bonton e esponenti della corte di Pietroburgo, proprio perché forse la fretta, l'essere precipitosi, l'essere anche un po' bruschi, avere il garbo del maniscalco del Montana non paga, neanche effettivamente e neanche fornicatamente. Oddio, forse di un pochino sì.